Carichi troppo col davanti qua e ti si impunta, devi tenerlo un po' più alto perché arrivi qua con quello davanti ti si impunta e ti blocca lì. Devi dargli un po' gas lì e poi il movimento di fare l'impennata. Tirartela su un pelino a te. Il davanti in che senso? Per il discorso se lasciamo di là? Eh no, qua no, qua no perché non è un muro, cioè qui è una salita. Perché vedi accompagnata. L'unica roba è che c'è questo buco qua. Allora qui davanti devi tenerlo un po'. Vediamo, vediamo, magari non mi viene più neanche a mai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cosa ti ho detto? Te l'ho detto che magari non mi viene anche a me. Ho fatto meglio questo che quello là. è effettivamente. È effettivamente. te l'ho detto a te di non dargli e gli ho dato io. non mi viene anche a me. Ma questa è l'ho detto a te lo? No. 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 Sì, però mi succede.